Bene ragazzi, un altro interessante confronto, un'altra interessante coincidenza con Carmelo Bene, il golfo di Otranto e il golfo folclorico, il folclore locale spezzino, a volte muschioso, mustacchioso, però di questo golfo spezzino chiamato anche il golfo dei poeti, dei poeti, non per poeti spezzini o italiani. Vabbè sì, per esempio possiamo ricordare il Tellarese vicino all'Erici, appunto soldati, lo scrittore, però viene chiamato golfo dei poeti, soprattutto per Shelley e Byron, quindi per poeti inglesi. Comunque parliamo invece di questa corrispondenza interessante tra Carmelo Bene e le invasioni turche e appunto, quindi dicevamo prima che mi interrompessero, dove sta la coincidenza interessante? La coincidenza interessante sta nell'invasione corsara dei pirati, appunto anche le Cinque Terre furono, come dire, terrorizzati per 300 anni circa dai corsari turcheschi, cioè i saraceni del terribile re Mughetto, predoni turchi e berberi provenienti dall'Oriente, da Tunisia ed Algeri, a volte cristiani, però convertiti all'Island, con le loro agili navi, arrivavano ad alcuni borghi italiani, tra cui appunto Otranto e il Golfo dei Poeti, la Spezia. Il dramma della schiavitù, vabbè, i relativi saccheggi, catture di abitanti, quindi molti vengono fatti prigionieri e poi la cosa interessante è anche un cittadino di Levanto rapito, trasferito a Tunisia e convertitosi alla fede islamica, il fenomeno dei rinnegati. E poi alcuni evidentemente di questi islamici erano cristiani convertiti, quindi sembra veramente una storia che ha a che fare con anche i toni rocamboleschi del libro Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene, perché proprio ci sono queste incursioni, corse, barbaresche, che poi appunto spesso sbeffeggiate, almeno secondo Carmelo Bene, come martiri della fede, in quanto estremisti, in quanto fedeli, e poi si scopre invece che alcuni di loro sono cristiani convertiti, come dice Carmelo Bene, cristiani comodi che davano le due ali del palazzo sul mare per non morire di fame. E quindi ci sono queste corrispondenze che dicevamo, delle quali appunto si può dire questo, esattamente che... E poi appunto l'altra particolarità è che il primo agosto del 1884 il cantante Pino Daniele e Carmelo Bene, il cantante napoletano e il nostro attore otrantino, o cioè le Cese, cosa fecero? Si trovarono nello stesso momento a fare appunto l'uno, il concerto di canzone, l'altro di teatro, al passeggiata Morin, che è la passeggiata di La Spezia. Cioè è proprio la passeggiata principale della città, che dà sul porto, sul mare, passeggiata al mare. Quindi mi sembrano due interessanti spunti per un eventuale appunto studio folclorico, anche comparato sulla storia di questo golfo, e anche altre storie che possono interseccarsi con altre parti d'Italia o del mondo o del Mediterraneo. E sicuramente annumeriamo anche quindi tutte queste informazioni che spesso ci pervengono anche tramite i studiosi locali, non tanto quelli attuali quanto quelli ottocenteschi, tipo Ubaldo Mazzini, che fecero degli studi anche interessanti e seri di folclore e di storie del luogo.